Succede che un giorno scegli di progettare il tuo futuro e pensi che vorresti fare un nuovo lavoro. Sogni qualcosa di straordinario. Immagini un'azienda con un grande laboratorio e persone che creano oggetti per realizzare i desideri di tanti clienti. Cominci a farlo con ciò che hai a disposizione in quel momento. Ci provi e ci riprovi e ci metti dentro tutte le tue energie senza renderti mai. Poi succede che un giorno apri gli occhi e ti accorgi che in quel sogno ci sei proprio dentro. E ci sono tutte le cose e le persone che hai sognato per tanto tempo. Grazie a tutti.